Nuovo ospedale di Padova Est San Lazzaro. La Giunta regionale ha approvato la delibera che prevede un ulteriore finanziamento dell'opera di 300 milioni di euro. Lo prevediamo perché l'ospedale costerà quasi 600 milioni, sono 590 milioni, dei quali 108 milioni sono di sole attrezzature, il resto sono opere. Io vi dico solo una roba perché poi i venti dicono, parlo non sempre dell'ospedale di Padova. Sì, noi parliamo dell'ospedale di Padova perché lo facciamo. Lo dico anche a tutti quelli che pensavano che fossimo di perdi tempo, al punto tale vi annuncio già l'inizio dei lavori a fine 2023. Due anni per partire con il cantiere, legati alla montagna di carte, così la definisce Zaia, che andrà preparata e su questo fronte il Presidente rilancia al Governo l'ipotesi di un iter semplificato, grazie a una gestione commissariale dell'intervento che ridurrebbe drasticamente i tempi. Noi possiamo tranquillamente, per darvi una dimensione, gli otto anni che poi diventeranno dieci per avere le chiavi in mano con il primo paziente addentro, penso che verosimilmente li possiamo quantomeno dimezzare. Un ospedale da 200 mila metri quadrati e 963 posti letto più 50 da riservare a pazienti extra-regione. Sono otto i gruppi che stanno partecipando all'affidamento della progettazione e una gara a livello internazionale sarà necessaria anche per individuare il soggetto con cui la Regione si indebiterà per la copertura dei 300 milioni da aggiungere ai 290 già accantonati. Le modalità di finanziamento che sono state considerate congue e quelle quindi più da perseguire da parte dei professori dell'Università di Padova che hanno avuto l'incarico di un'analisi economico-finanziaria è quella dell'appalto con finanziamento o autofinanziamento. Oggi in Regione Veneto sono disponibili 290 milioni già disponibili, quindi ci sarà un finanziamento per quanto riguarda i mancanti 300 milioni che verranno quindi poi tramite una gara recepiti alle migliori condizioni.